Ciao, sono Marco e oggi ti parlerò di quelle che sono le rendite passive. Forse avrai già sentito parlare di rendite passive oppure di entrate automatiche. Andiamo un attimino oggi a fare un po' chiarezza su che cosa sono e su quali sono quelle, diciamo, le più importanti, quelle che si conoscono e quelle che ti consiglio di attuare se hai intenzione di creati delle rendite passive. Allora, intanto iniziamo con il fare un attimo chiarezza e iniziamo a spiegare che cosa sono le rendite passive. Le rendite passive sono quelle entrate economiche slegate dal tuo tempo lavorato. Che cosa significa? Significa che questi soldi entrano da te, entrano sul tuo conto corrente, indipendentemente che tu stia lavorando o meno. Mi spiego meglio. Facciamo il primo esempio. Se tu vai a lavorare, se tu stai lavorando otto ore al giorno, fondamentalmente tu otterrai a fine mese una tua paga, un tuo stipendio, ma stai dando del tuo tempo in cambio di denaro. Quindi lavori otto ore al giorno in cambio di soldi, quindi vendi del tuo tempo in cambio di soldi. Le entrate invece passive sono quelle entrate che ti arrivano sia che tu stia dormendo, sia che tu sia in vacanza, sia che tu stia lavorando. Quindi sono slegate dal tuo tempo lavorato, cioè non coincidono col tuo tempo lavorato. E mi spiego meglio. Un primo esempio di rendita passiva sono per esempio gli immobili a rendito. Quindi facciamo finta che tu abbia 10 case e tu abbia queste 10 case in affitto. Ok? Ogni casa hai un affitto, percepisci al netto di tutto, delle spese, delle tasse, 1000 euro da ogni casa e le hai tutte quante in affitto. Ora tu ogni mese che tu sia in vacanza, che tu sia a casa, che tu sia a lavoro, percepirai quei 10.000 euro. Quindi quei soldi ti arrivano, indipendentemente dal fatto che tu stia lavorando, che tu non stia lavorando, tu hai quelle case e ti arrivano quei soldi. Quindi sono entrate slegate dal tuo tempo lavorato. Ok? L'esempio è un po' drastico, ma serve per capire. Altri tipi di entrate automatiche sono il trading. Probabilmente ne avrai già sentito parlare, quindi tutto quello che riguarda il forex, piuttosto che le azioni o le opzioni o criptovalute. E anche queste sono entrate slegate dal tuo tempo lavorato. Pensa per esempio se tu acquisti delle azioni, quindi hai messo lì dei soldi, queste azioni fruttano dei soldi e tu hai questi soldi che arrivano indipendentemente dal fatto che tu stia lavorando o meno. Quindi queste sono rendite passive. Un altro esempio pratico di rendita passiva è lo sviluppo di business. E qua nel mio canale, ti consiglio infatti di iscriverti se non l'ho ancora fatto, qua nel mio canale ne parlo per esempio quando mi riferisco alla vendita di plugin per WordPress e per WooCommerce, quindi scrivo plugin per WordPress e per WooCommerce e li vendo. Cosa succede? Che io ho creato un mio prodotto, lo vendo online e ogni volta che questo prodotto viene venduto io guadagno del denaro. Ma io non devo ogni volta riscriverlo, non devo ogni volta rifarlo. Quindi io l'ho fatto, l'ho messo in vendita e ogni volta che qualcuno lo acquista e quando per esempio i miei plugin vengono acquistati oramai in tutte le parti del mondo, a me capita spesso di andare a dormire e al mattino svegliarmi e trovarmi le mail degli acquisti dei plugin, quindi di soldi che sono entrati sul mio conto corrente perché ho venduto dei plugin, ho venduto magari un plugin, quindi io ho sviluppato quel plugin e a me arrivano dei soldi ogni volta che questo plugin viene venduto. Un altro esempio di entrate passive, direi però non così forse pratico, è quello per esempio di scrivere musica, di comporre musica. Pensa un attimo a, che ne so, Vasco Rossi, comunque a qualcuno che fa musica, ogni volta che i loro dischi vengono venduti, le loro canzoni vengono vendute, vengono riprodotte da qualunque parte, gli autori guadagnano quelle che si chiamano royalties, quindi sono soldi che loro guadagnano ogni volta che la loro canzone viene venduta, viene pubblicata, viene riprodotta e quindi sono guadagni che loro percepiscono indipendentemente che siano in vacanza, che siano al lavoro, che stiano facendo qualunque cosa, quindi questo è un altro esempio. Un altro esempio di entrata automatica è per esempio quello di pubblicare libri, quindi puoi per esempio scrivere un libro, oppure ci sono addirittura oggi società che scrivono libri per te, tu passi l'argomento a loro e loro ti scrivono un libro, quindi una volta che il libro viene pubblicato e venduto, tu guadagnerai vita natural durante, quindi per sempre, ogni volta che il tuo libro sarà venduto, ogni volta che il tuo libro sarà comprato da qualcuno, quindi per esempio puoi pubblicarlo magari su Amazon, ogni volta che viene venduta una copia cartaccia, piuttosto che una versione Kindle, ogni volta che il tuo libro viene pubblicato tu guadagnerai qualcosa, indipendentemente da quello che tu stai facendo. Un altro sistema comunque oggi in auge, diciamo, per crearsi delle renti passive è quello del network marketing, probabilmente ne avrei anche sentito parlare di questo, del marketing multilivello ed è un sistema di marketing che praticamente permette di portare prodotti al mercato e costruire una rete di vendita che ti faccia quindi guadagnare anche qua delle royalty, quindi dei guadagni passivi dalle persone che tu hai portato all'interno di questa rete di vendita, quindi ognuno guadagna per sé, ci tengo a precisare, non è un sistema piramidale, anche se molti lo definiscono ancora così, ma un ottimo sistema invece per generare rendite passive, quindi è un sistema appunto dove appunto tu porti dei prodotti al mercato, le persone che diciamo si dice in gergo sponsorizzi tu porteranno anche i loro prodotti al mercato e tu guadagnerai delle piccole royalty dal lavoro fatto da queste persone, ogni persona a seconda dell'impegno che mette può guadagnare più o meno di te indipendentemente da dove è situata diciamo nella scala, quindi una persona sotto di te potrebbe anche guadagnare di più, non voglio dilungarmi adesso molto su questo particolare tipo di royalty però è un altro sistema per poter creare rendite passive, allora voglio sfatare un mito perché spesso online al giorno d'oggi si continua a sentire parlare di rendite passive per guadagnare quando si ha la spiaggia, per mettere su una rendita passiva e smettere di lavorare, allora tutte quelle che io ti ho menzionato poco fa nel video sono sì strumenti per ottenere rendite passive, ma sappi che una rendita passiva è comunque come una piccola pianticella e la piccola pianticella va continuamente annaffiata, quindi non possiamo pensare di avere un sistema, di mettere su un sistema che ci fornisca delle entrate automatiche e poi veramente di andare a vivere in spiaggia per il resto della nostra vita perché il sistema non starà in piedi perché il sistema crollerà, ha bisogno di una cura anche minima, quello sì anche minima perché nel momento in cui tu per esempio hai gli immobili a reddito quindi prendiamo il primo esempio che è quello forse dove uno pensa c'è di meno da fare, non è vero perché comunque ogni volta che un inquilino dovrà entrare in una casa ci saranno tutte delle procedure da fare, ci saranno la questione dei guasti, ci saranno un sacco di cose comunque da gestire, quindi non è impensabile che tu possa prendere, mollare tutto lì e non fare più nulla, ok? Quindi le rendite automatiche sì, ma vanno comunque curate, tutto va curato, un tuo business e ti ho riportato poco fa quello dei plugin, va comunque curato, idem il trading, non puoi piazzare lì degli acquisti, delle azioni, delle opzioni e dimenticartene e andare a vivere in spiaggia, vanno comunque controllate, vanno verificate, basta pensare a come gli avvenimenti di oggi possono influire sui mercati, quindi i mercati delle valute, i mercati appunto anche quelli azionari, a seconda di quello che succede abbiamo dei contraccolpi, quindi sono comunque cose da dover seguire. Beh, scrivere musica e come scrivere libri, probabilmente a meno che tu non sia davvero un cantante di fama mondiale, se tu componi della musica sfido io che con quello che guadagnerai di royalty riuscirai a campare tutta la vita senza dover assolutamente far più nulla, quindi o pubblichi diverse libri, diverse canzoni, o pubblichi, o sei autore di diverse canzoni, o pubblichi per esempio nel discorso dei libri, tanti libri, oppure probabilmente non andrai tanto lontano, cioè smetteranno le royalty diventeranno sempre meno, anche perché quello che farai non sarà sempre attuale, quindi dovrai sempre fare qualcosa di attuale. Ultimo ma non ultimo anche il network marketing, non puoi pensare di piazzare l'idea della gente che faccia il lavoro per te e tu te ne vai alla spiaggia, se non curi il tuo gruppo probabilmente i guadagni inizieranno a scendere, perché il gruppo vedrà che tu non fai niente e smetteranno di fare cose anche loro, quindi comunque vanno curate. L'importante da sapere è che queste rendite passive ti consentono di fare il salto in là, cioè quello che tu oggi puoi fare con il tuo lavoro è vendere il tuo tempo in cambio di denaro. Le entrate automatiche sono entrate slegate dal tuo tempo lavorato, quindi sono entrate che non sono collegate al tuo tempo lavorato. Se tu una mattina non hai voglia di lavorare, tu avrai lo stesso le entrate automatiche, la differenza è quella e ti consentiranno quindi di essere libero e di scegliere come, cosa e quando farlo. È un importante cambio di rotta rispetto al lavoro, al tempo lavorato. Quindi è fondamentale curare e costruire rendite passive oggi oltre al lavoro. Possiamo anche farlo parallelamente al lavoro che abbiamo. Se il lavoro che abbiamo lo vogliamo mantenere, possiamo farlo parallelamente. Possiamo fare due cose insieme. Ma è molto molto importante oggi avere delle rendite automatiche, delle entrate automatiche, delle rendite passive. Bene, fammi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensi delle rendite passive e quindi delle entrate automatiche, se anche tu ne hai, se appunto stai ottenendo i risultati che hai voluto raggiungere, se e quanto curi le tue entrate automatiche. Se comunque questo video ti è piaciuto attiva la campanella, metti mi piace qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!